Ultimamente il rubinetto del lavello si diverte a schizzare acqua da tutte le parti, magari starà solo facendo dei video simpatici da pubblicare su TikTok, l'ultimo social network di gran moda. Chissà. Installando un bel riduttore di pressione con snodo, mi è passata ogni voglia di scherzare, il getto d'acqua va esattamente dove dico io e con pressione adeguata riducendo drasticamente gli sprechi. Per installarlo basta sostituire la grata originale, verificare il tipo di filettatura ed acquistare il riduttore con snodo compatibile. Nella descrizione qui sotto al video una selezione di alcuni modelli acquistabili direttamente online a pochi euro. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Ciao. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.